La stella di Calzadillas de los Hermanillos, Spagna, cammino francese 2010. La mia esperienza. Salve, mi chiamo Luciano Andreotti, ho 64 anni e l'esperienza che voglio condividere si riferisce al mio cammino francese percorso nel 2010. Era il 16 luglio. Stavo percorrendo il mio primo cammino, iniziato da Saint-Jean-Pied-de-Port il 16 giugno. Durante questo cammino mi ero ripromesso di fare delle tappe notturne per meglio apprezzare e ammirare la Via Lattea sopra di me. In effetti così è stato. Arrivato a Saagoun, nel centro esatto del cammino, decisi di percorrere una variante meno nota anziché a direzione indicata verso il burgo Ranero. La giornata era molto calda, il cielo senza una nuvola, la luna nera. Decisi che era l'occasione giusta che aspettavo per organizzarmi e trovare un luogo tranquillo nella campagna, lontano da Luci e case e auto, per non essere infastidito. Arrivato ad un centropunto, ebbi la piacevole sorpresa di trovare una fuente del peregrino circondata da un piccolo parco con alberi ad alto fusto e con delle panchine per riposarsi. Sembrava un luogo perfetto per la mia esperienza notturna. Ero solo. Trovai la presenza della fonte a sé curiosa, perché nella mia guida non se ne faceva menzione. Passai il pomeriggio a riposarmi per affrontare la notte in bianco. Iniziò a calare il sole e verso le 22 il cielo si stava oscurando. La notte avanzava. All'orizzonte cresceva un piccolo spicchio di luna che presto svanì. La condizione era veramente ottimale per osservare la Via Lattea. Mi mesi disteso suppino sul prato antistante la fuente, sul mio sacco a pelo. Il silenzio era quasi totale. Solo un modesto gorgoglio della fonte lo interrompeva. Nelle mie orecchie un lettore con la nona sinfonia di Beethoven. Avevo deciso che sarebbe stato Beethoven ad accompagnarmi in questa esperienza e in particolare all'ino la gioia. A mezzanotte il buio era totale e potevo così ammirare la Via Lattea nella sua magnificenza e nella sua bellezza. Bagliori la percorrevano in tutte le direzioni, a volte azzurri, a volte rosa. Uno spettacolo davvero esilarante. Ero esaltato, emozionato ed estasiato, felicissimo di poter fare quella meravigliosa esperienza sul cammino di Santiago. Verso l'una, forse l'una e mezza, sentì dei passi, dei tic-tic di bacchetti da trekking sullo sterrato in direzione di Calzadillas de los Hermanillos. Un pellegrino, con una luce sulla fronte, stava percorrendo il cammino a quell'ora. Io ero nell'oscurità, ad una decina di metri dal ciglio della strada e difficilmente poteva vedermi. Ne fu sorpreso, ma non infastidito. Egli era seguito, a circa forse due o tre metri di distanza e altrettanti sopra di lui, da un'altra luce. Pensai si trattasse di un altro pellegrino, certo molto più alto. Che strano, pensai. Strizzando gli occhi, per mettere a fuoco questo secondo pellegrino, con mia meraviglia non vedi assolutamente nulla. Era una luce sospesa nell'aria. Perplesso e pieno di dubbi e interrogativi, seguì ancora il pellegrino che si stava rapidamente allontanando. A quel punto accade l'imprevedibile. La luce si fermò proprio davanti a me. Come dire? Lei mi aveva notato. Si trattava di una luce fredda, poiché non illuminava l'ambiente circostante, ma solo se stessa. Come, diremmo, fanno le stelle. Io allora mi misi in ginocchio sul prato avvolto dal sacco a pelo poiché incominciava a fare freddo. Immobile ad osservare senza fare assolutamente nulla. Certo, avrei potuto avvicinarmi, fotografarle e tante altre cose, ma decisi di stare assolutamente immobile. Commosso, iniziai a piangere dalla gioia dello stupore. Un misto di emotività incontrollata mi colse. Potei inoltre assistere ad uno strano fenomeno collaterale. Mentre la fissavo, il campo visivo divenne una specie di teatro, oppure uno schermo di un film, di un cinema, su cui si stava proiettando una film tridimensionale. Sulla sinistra, visioni topografiche di centri urbani. A destra, scene di guerra e di prigionia, dove si evidenziava la Croce dei Templari. E al centro, una moltitudine di gente in cammino verso un'ipotetica meta. Il tutto per ore e ore, senza soluzione di continuità. Alle prime luci dell'alba, la luce si elevò verso il cielo scomparendo, mimetizzandosi poi con le altre stelle e così la persi di vista. Non capivo il nesso di ciò che stavo osservando e ancora oggi è un mistero per me. Feci altre tappe notturne, ma la luce non si ripresentò. Proseguì il cammino verso Santiago che raggiunsi i primi giorni di agosto. Ecco il disegno che a caldo ho riprodotto dell'esperienza. Esperienza che certo non potrò mai dimenticare perché è scolpita nella mia anima di pellegrino e che in questa occasione desidero condividere con altri pellegrini. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Ultrea ed Suseia. Grazie. 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 Grazie.